Ecco, a questo punto io terrei con gli studenti del liceo artistico la seconda lezione di educazione sessuale. Per evitare di fermarci proprio nel momento, bloccati dalla pubblicità, chiedo lui se posso andare avanti. Posso più predire all'interno della materia. Ecco, a questo punto io terrei con gli studenti del liceo artistico la seconda lezione di educazione sessuale. Per evitare di fermarci proprio nel momento, bloccati dalla pubblicità, chiedo lui se posso andare avanti. Posso più predire all'interno della materia. Indisposibile nell'atto sessuale è l'incitativo. Grazie. Grazie. Grazie.